Mediterraneo Lab 4.0 è stato premiato quest'anno alla terza edizione della borsa mediterranea della formazione del lavoro un commento su questo premio e sull'onore di averlo ricevuto ovvio che fa sempre piacere essere premiati e riconosciuti tra l'altro in un settore nel quale noi ci candidiamo a diventare leader di mercato quindi attraverso le nuove tecnologie come la blockchain e l'intelligenza artificiale cercando di dare una risposta ai lavoratori per certificare su tecnologia blockchain le competenze le attività lavorative e i benefici di welfare aziendale ci ovviamente prefiggiamo l'obiettivo di dare supporto alla people strategy quindi al lavoratore del futuro